Buongiorno a tutti su Radio Design, siamo sempre noi, un po' di buio perché si è fatto tardi, ma i lavoratori a quest'ora si liberano, nel caso specifico Paolo. Sì, è colpa mia questa volta, però ti ho aspettato tante tante volte. Infatti non ho battuto ciglio, è stata una punizione divina. Ma oggi facciamo un meta podcast, perché parliamo di… Podcast, è una specie di matriosca lessicale. Esatto, siamo quelle matrioschine, io sono quella più grande ovviamente, tu sei dentro di me. Detto così potrebbe essere equivoco. Così, senza neanche due coccole. Esatto, le odio le coccole. Comunque, parliamo di podcasting perché, come sapete tutti, è un fenomeno che è cresciuto tantissimo nell'ultimo tempo, oramai è cresciuto così tanto che non rappresenta più una novità. Però noi abbiamo fatto un titolo molto catchy, molto 5 stelle, andatelo a vedere. Podcast, e poi non mi dicono più, a volte ritornano. A volte ritornano. In realtà non è che ritornano, ma stanno arrivando in auge. Sì. E questo perché? Perché è uscito un interessantissimo articolo che racconta la crescita esponenziale, sia della raccolta pubblicitaria che la diffusione stessa dei podcast. Non so se l'avete notato, ma ovviamente se non fate parte di quel pubblico ignorante a cui noi spesso ci rivolgiamo, ma un pubblico che salutiamo sempre con affetto, ma un pubblico magari più sveglio, più attento, più dinamico, che legge anche articoli, ok? Possiamo, sicuramente avrete notato che se vi guardate attorno trovate ovunque ormai podcast, qualsiasi brand di una certa dimensione ha sviluppato un proprio podcast, questo è stato proprio l'anno dell'esplosione vera e propria. Cito solo per esempio Ryanair. Sì, che spinge il podcast. Ryanair, ma tantissimi poi ovviamente tipi di aziende che lavorano nel mondo dei new media, dei media. Quindi per esempio in Italia posso citare Il Post, che fa Il Post. Anche alcune agenzie di respiro nazionale fanno il podcast. Agenzie, ad esempio Satispay, che è un sistema di pagamento digitale che ha il proprio podcast. Che noi usiamo, pubblicità. Noi usiamo, qui sotto trovi il link, 5 euro per te. Non è vero, però... E quindi c'è stata una crescita esponenziale. Ovviamente che cosa succede? Che a guidare sempre il mercato è agli Stati Uniti, giusto? Giusto, ma com'è successo durante la prima ondata ai podcast? Perché prima di entrare nella stringente attualità facciamo un passo indietro. Ricordate la parola podcast quando è entrata nelle nostre vite? Era l'era d'oro di Apple, quella del secondo Steve Jobs, quando tornando in sella nella sua azienda che l'aveva scaricato, si è fatto largo con prima iPod, poi iPhone. E l'iPod ha avuto, tra i segreti del proprio successo, della diffusione del proprio formato tecnologico utilizzato, la piattaforma dei podcast. I podcast che si aggiornavano, che venivano scaricati in automatico. Era l'epoca dei feed RSS. Era un'epoca nella quale si tendeva a voler catalizzare i contenuti che erano interessanti e poterli fruire da una sola piattaforma, da un solo hub. Ora, gli iPod non ci sono più. Apple non li produce neanche più da un anno e mezzo, due anni. Non ne produce più nessuno. No? Non ne produce più nessuno. Però è cambiato lo strumento per utilizzarli. Ma ora i podcast sono rientrati fortemente dalla porta di servizio e sono diventati un'opportunità di guadagno, cosa che prima non erano. Perché prima erano un servizio comunque contestuale, complementare, che Apple offriva sul proprio iTunes Store. Sto parlando solo di Apple come esempio, un esempio più noto a tutti. Ma oggi il podcast, tra l'altro, state, probabilmente state sentendo la nostra voce in podcast. Quindi è veramente da buffoni parlare di... Suave. Sì, abbiamo delle voci straordinarie, veramente belle. Comunque, state ascoltando le nostre bellissime voci che tossiscono tramite un podcast, ed è un formato che si credeva che non potesse durare, perché comunque la crisi della radio, una crisi proprio strutturale, si credeva che fosse strettamente collegata. In realtà non è così, perché è un strumento che ben si adatta anche al business e lo dimostrano i numeri che sono emersi ultimamente e che abbiamo consultato. Esatto, abbiamo un sacco di numeri, li diamo come fa il ministro dell'economia tendenzialmente. Quelli sono falsi, ovviamente. Falsissimi. I nostri sono veri, giusto per farci un altro amico, il ministro dell'economia. Salutiamo. Mi è piaciuto il tuo revival, il tuo momento vintage, hai citato un'epoca storica in cui avevo ancora i capelli, quindi ti ringrazio. I miei erano neri, pensa. Tu pensa che storia, eri completamente neri, come la pece. Eh già. E cosa è cambiato negli ultimi tempi? Sono cambiati i numeri, sono cambiate le dimensioni del fenomeno, perché nel 2018 il fatturato, secondo l'advertising bureau, lo Yab, famoso Yab, che è sostanzialmente un'agenzia americana che fa un monitoraggio continuo proprio sul mondo della pubblicità, dell'advertising, dice appunto che il fatturato ha raggiunto i 480 milioni di dollari nel 2018 per il mondo del podcasting, che è tanta roba. Ovviamente gli Stati Uniti hanno una popolazione che è otto volte quella dell'Italia, sono quasi 400 milioni di abitanti. E non dimentichiamo l'elemento linguistico, che consente di abbattere le barriere. Un contenuto italiano non ha questo bacino, ovviamente. Esatto, esatto. Però la cosa interessante è che solo nel mercato americano, per il 2021, quindi fra due anni, è previsto il sostanziale raddoppio di questo fatturato, se ci si arriverà a un miliardo di dollari. Che cosa è cambiato? Qual è stata la novità allora? Visto che comincia a diventare un mercato appetibile, quello dell'advertising per il podcast, cambiano anche le modalità di fruizione pubblicitaria. Sappiamo tutti un pochino come funziona la pubblicità nel mondo dell'online, quindi abbiamo parlato con Netflix, abbiamo parlato diverse volte qual è il posizionamento dell'advertising, nel caso del podcasting, la fruizione tradizionale della clip pubblicitaria viene definita host read, nel senso che viene letta proprio da l'host, che si chiama sostanzialmente lo speaker che realizza il podcast, è come se noi a un certo punto dicessimo Questo contenuto è offerto da patatine pie. Il bar perugino a Spotify, quindi potete utilizzare. Satisfay. Satisfay, Satisfay. Qui abbiamo fatto davvero pubblicità? Pubblicità, non ci hanno pagato, strozzi. Comunque è un locale straordinario. Veramente c'è Satisfay. Subito aperitivo. Questo è un host read, cioè letto proprio da l'host, ma l'evoluzione vera e propria è... Scusa un attimo, stai facendo i conti senza l'host. Questo era bellissimo, mi sei spiaciuto. La pubblicità invece può essere quella tradizionale, cioè una pubblicità che sarà targettizzata e soprattutto dinamica, appunto, cambia in base al contenuto, in base alla SEO che viene fatta sul podcast, perché anche lì c'è una SEO, ci sono dei titoli, ci sono dei tag, ci sono un sacco di motori di ricerca ormai che ti permettono di trovare il podcast più adatto. Quindi anche lì ci sono modalità di fruizione della pubblicità che può avvenire anche in diverse fasi del podcast, quindi mid-roll, pre-roll, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio, a metà, alla fine, avverrà sicuramente, come nel caso di YouTube, la possibilità per i creators dei podcast di poter collocare la pubblicità. La cosa interessante, come ultimo dato, è che in un solo anno l'aumento della raccolta pubblicitaria è aumentata del 53%. Pazzesco. E questo, tra l'altro, tu prima hai detto del mio passo indietro nel passato, l'operazione nostalgia, ma vi state rendendo conto di come il mondo online comunque stia recuperando gli stilemi dei media tradizionali? Faccio un esempio chiaro. Eravamo abituati ad avere l'inserzione pubblicitaria di YouTube all'inizio. Quindi clicchi sul video che ti piace, aspetti questa rottura di scatole della clip pubblicitaria, passa la clip, mi godo il mio video. Ora, sembra di tornare a vedere i film su Canale 5 nel 1989. Nel momento clou, bam, arriva la pubblicità. I grandi creatori di contenuti YouTube ormai tendono a creare dei contenuti lunghi, di qualità, con il video, con l'inserzione in mezzo. Quindi se ormai tu sei arrivato a quel punto e sei interessato, continuerai. E queste sono ottime notizie per gli inserzionisti, però ricorda davvero da vicino la pubblicità tradizionale. Questo almeno, a mio modesto avviso. E ci ritroviamo sempre più la pubblicità in collocazioni organiche, centrali. Quindi è sempre più difficile skipparla. Quindi il vostro adblock non vi salverà. Questo è molto vero perché anch'io ho notato questo fenomeno e mi colpisce personalmente. Nel senso che le persone sono molto più legate ora a brand che trasferiscono veramente il valore di quello che realizzano, di quello che fanno, con dei contenuti che ovviamente richiedono un budget superiore. Quindi paradossalmente adesso si sta tornando indietro. Cioè prima, grazie a Facebook, tutto era molto più accessibile lo budget. La verità è che adesso un brand deve creare contenuti di altissimo valore per poter creare quella loyalty vera e propria che si può realizzare. Mi chiamo una commercialista proprio strana. Oddio, oddio. Creare quel vero legame con i propri fan. E l'esempio sono i video che dicevi, il podcast. Quindi tutti i contenuti che sono un pochino slegati da il microcontenuto catchy che prima funzionava così tanto, il gattino, i like. I saluti ai passanti. Intanto una MILF ci stava provando con te. Benissimo. Ma con tutti noi. Con tutti noi. È stato bello che tu abbia citato il rapporto con i fan. Esatto, a MILF salutiamo comunque. Salutiamo la MILF. Però mai come in questo caso fan fa rima con funnel. Ora scusate il giochino di parole è terrificante. Vuoi andartene? Dopo host funnel mi sei piaciuto tanto. Ok, posso dire tutto quello che voglio ormai. No, rendiamoci conto che il fan, però appunto il fan del quale parla Nicola, che è un fan da coccolare, un fan che deve ricevere generazione di valore, potenziamento di valore, ha un rapporto, non mi stanco mai di ripeterlo, dialogico col brand. Quindi ci parla e questo fa di lui un pazzo della modernità, ma non voglio addentrarmi dentro questi contesti. Filosofici. E anche parapsichiatrici. Ecco. Tuttavia dobbiamo ricordarci per l'appunto questo rapporto non è quello con un artista, che comunque è un rapporto tra cliente e produttore, ma è proprio un rapporto ancora più stretto che deve essere finalizzato in conversioni. Deve arrivare all'acquisto, bisogna sbigliettare questo sempre e comunque. Quindi un rapporto stretto, i brand che riescono a stabilire un rapporto stretto e duraturo, possono ottenere risultati. Però, come faceva notare Nicola prima, si è alzata molto l'asticella. E questa probabilmente è tornata l'era delle agenzie. Mi spiego. Sì. Qui non si vuole fare del... È molto vero. Né del poserismo, né portare l'acqua al proprio mulino. Però per un piano strategico, ben strutturato, che coinvolga più figure, è sempre più importante avere i muscoli, poter intervenire, muscoli e cervello. E alla fine, dopo 4-5 anni, probabilmente è la fine del one-man show, diciamoci la verità. Sì, credo di sì. Credo di sì. C'è il freelance. Sì, sono carretti che comunque abbiamo portato. Sì, sono state anche una grande occasione di crescita. Colpetto in fuori, per anni. Colpetto in fuori le tasche vuote. Però, probabilmente è tutto molto vero. Adesso c'è bisogno di un contenuto che richiede più figure, che richiede un maggior peso, ma proprio anche culturale. Cioè, è la fine di quello che si improvvisa. Sì, credo di sì. Nella pubblicità. E probabilmente anche i piccoli brand se ne renderanno conto che sono azioni molto velleitarie, quelle portate avanti così, senza un po' vacue, diciamo. Sì, magari a volte basta compiere anche pochissime azioni, ma ben pianificate, ben finanziate, quella cosa lì e basta. Quindi, anche l'idea di dover gestire 100 profili social, il sito... E' una diversificazione inutile. No, inutile. Fate il podcast, ma è in questa direzione. Esattamente. Cioè, tu puoi essere un brand forte su quel contenuto lì. Se il tuo tipo di cliente è un cliente che è solito informarsi tramite un contenuto molto strutturato, quindi una persona, magari ipotizziamo questo cliente, una persona calma, come poi tutti i nostri ascoltatori amatissimi. Quindi non lega nord, poi vai avanti. No, 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 ma neanche Casa Pound, credo. Neanche Casa Pound. No, no, no. Neanche Casa Pound può essere. Forse qualche forzista neanche. Michele Maraglino dice wow, incredibile. Perché lui è un podcast, eh, attenzione. Lui è un podcast vivente, un podcast collegante. Un'altra cosa molto interessante, per chiudere il cerchio anche, perché il mondo del podcasting è interessantissimo anche dal punto di vista del, diciamo, del tutto ciò che c'è dietro. Quindi la produzione del podcast stesso. E anche qui grandi brand si stanno muovendo per coprire questa piccola nicchia che all'inizio era molto scoperta. Ad esempio, citiamo Spreaker, che è la piattaforma dove sono hostati i nostri podcast. Volevo dire questa cosa molto... Hostati è una parola straordinaria. Hostati i nostri podcast, che è una piattaforma italiana. È stata una delle prime start-up a investire, a credere nel podcasting, ormai roba di dieci anni fa, se non sbaglio. Perché ho visto un'intervista al creator, a chi ha realizzato Spreaker, che mi sa un tipo veneto, molto figo, molto nerd. Spreaker, per esempio, ha introdotto già negli Stati Uniti, anche se è ovviamente italiana, è introdotto negli Stati Uniti già da cinque anni, quattro anni, se non sbaglio, la possibilità del punto di ospitare contenuti pubblicitari. E da circa sette mesi, otto mesi, anche in Italia, è possibile ospitare messaggi pubblicitari. Non è caso, anche i nostri podcast hanno la presenza di alcuni contenuti pubblicitari. Lo facciamo più per esperimento che per revenue, perché vi diciamo assolutamente che finché non fai volumi importanti non riesci a guadagnare. Però ho fatto degli esperimenti e ho notato che, giusto per rimanere in tema advertising, più la frequenza di ascolto è alta, più sono alte le revenue. E questo non è un caso. Quindi c'è un algoritmo che premia i creator. È soltanto un esperimento, noi lo vogliamo ribadire. Però volevo chiedere a Nicola se la Maserati consuma davvero così tanto. Come ti trovi? No, mi trovo alla grande, insomma. Ogni tanto devo fare benzina. Però ho messo anche quella a metano. Ah, bravo. Riesco ad andare avanti. Il Maserati a metano davvero. Ecco, il revenue di Spreaker, ci pago il metano. 9 euro al me che esilizia. 500 che oltre 9 euro. Comunque, torniamo a quel sottobosco, quel mondo underground che riguarda le start-up che operano nel mondo del podcasting, perché dietro al mondo del podcasting ci sono un sacco di aziende che fanno, ad esempio, che cosa? Il lato creativo e il lato tecnico. Sì. Abbiamo citato già Spreaker, ma ci sono da citare anche tutto un sacco, per esempio, una, diciamo, un'azienda italiana che si occupa del sound design, che è, adesso non ricordo il nome, ma è Spreaker, no, Spreaker.it, Spreaker.it credo sia. E qui chiediamo l'aiuto anche al buon Michele Maraglino. Esatto, esatto. È una, adesso non ricordo bene il nome, comunque è un'azienda che si occupa di farti il sound design, cioè ti crea il jingle, ti dice come utilizzare, appunto, i sottofondi musicali e quant'altro. Aspetto fondamentale. Esatto, molto interessante. Molto. Il famoso sound design e il sound logo, perché ci sono anche i logo che sono rappresentati da suoni, se pensate alle pubblicità, ad esempio, BMW, eccetera. Quelli sono il sound logo e vengono prodotti da case di produzione. E c'è tutto questo megamondo che riguarda anche il podcasting. E ci sono anche delle mega società, per esempio, una società di marketing legata al podcast che si chiama Chartable, che ha raccolto 1,5 milioni di dollari in venture capital. E anche, si sono mossi già dei colossi, come, mi è piaciuto questo, mossi colossi, oggi riesco a parlare male, però, sono i music entertainment che è entrato anche, anche loro sono entrati in questo spazio, sempre nella produzione di annunci dinamici. Ed è veramente un segnale interessante. Ed è interessante, prima abbiamo parlato proprio di come le aziende devono trovare dei partner. È molto bello aver sottolineato quanto l'aspetto sonoro sia importante nell'advertising. Cioè, è importante nell'advertising e nella creazione di una brand identity. Cioè, non vogliamo ammorbarvi con dei tecnicismi. Però l'impulso sonoro riesce a massimizzare il proprio effetto ed è molto, molto più forte di quello visivo. Ci sono degli studi che lo confermano e ora non entriamo nello specifico, ma se pensiamo, ad esempio, a alcuni sensi che vengono spesso sottovalutati, c'è anche l'olfatto tra questi, perché c'è un marketing offattivo che è sempre più forte, ve ne rendete conto, nelle politiche utilizzate in alcuni punti vendita, aver Cromby & Fitch. Pensate, è famosa per l'odore. L'odore riesce a scavalcare il normale percorso cerebrale e attiva immediatamente l'amigdala che risveglia delle parti istintive. Una mia amica. L'amigdala. Si chiama così. La cara amigdala. Amigdala. Però, ecco, allo stesso modo, l'aspetto audio richiede dei specialisti e quindi proprio per questo è importante anche riuscire a collocarsi in delle nicchie, perché non è detto, noi abbiamo parlato già di micro-influencing, non bisogna mirare necessariamente a Chiara Ferragni, perché ha un prezzo inaccessibile, ricopre delle fasce di mercato vaste, troppo vaghe. Non è detto che sia la persona che fa per voi. Magari, invece, un podcast di qualità, come il nostro, potrebbe essere l'ideale per posizionare alcune inserzioni. Venghino. Venghino. Non tutti lo possono immaginare, ma probabilmente il pubblicale 80 del mercato pubblicitario, del podcast mondiale, si chiama Spotify. Ci avete mai pensato? Spotify, per chi non ha l'account premium, ecco, sono un pezzente. Benissimo. Sicuramente ascolterai ogni giorno, sarai bombardato da messaggi pubblicitari, che ovviamente vengono posizionati probabilmente prima e alla fine dei contenuti, dei brani musicali, ma nel caso del podcasting, invece, possono trovare una collocazione molto più efficace. Sì, anche meno traumatica. Un conto è targettizzare un pubblico in base al tipo di ascolto, quindi metal, chissà che cosa compra. Sei tu? Non lo so, io, va bene. Il podcast ti permette di, podcast tematici molto verticali ti permettono di trovare la tua nicchia vera. Esatto, era quello che proprio stavamo dicendo. Non è importante mirare al bacino più vasto perché non è detto che faccia per te, a meno che tu non venda latte, tutti devono bere latte, quindi ci si confronta con un mercato grande, molto vasto, ma se tu vendi le famose, la famosa buttrella per cemento armato, sarà il caso che tu identifichi un podcast di costruttori, di gente appassionata di edilizia. Design. Ah, design. Sta per arrivare. Design. Eh, a parte gli scherzi, sempre ricordarsi che il posizionamento è una cosa fondamentale, quindi, se anche il budget non è elevato, non conta, bisogna decidere dove impiegarlo, come impiegarlo, e chiarirsi gli obiettivi, le finalità. Basta poco, a volte. Beh, cosa emerge tutti questi panel, podcast? Panel per i tuoi denti. Panel per i tuoi denti. non la smetto più oggi. Ci sei molto bravo, mi piace molto. La cosa emerge da tutti questi discorsi che, bruttistrono, anzi, dovete fare le cose fatte a modo. Vi lasciamo con questa, ah, volevi i soldi? Sì. eccola come c'è questa mia richiamata, sono preoccupatissimo. Questo vuol dire che però è una partita IVA, quindi non sono un finto freelance. Questo in realtà è tutto strategico per far vedere che siamo persone semiche. È stato veramente bello, un sogno, direi, il nostro payoff, è stato un sogno di podcast. Questo podcast lo trovate in video su Facebook, su YouTube, è un momento call to action. Mettete un like, mettete un 5 stelle su iTunes. Un toninelli. Mettete un toninelli, prendete un toninelli e mettetelo su iTunes e niente, mi sto dicendo una cosa, non la dirò. Sì, non la dire. Chiudiamola qui, come sempre. Comunque salutiamo, eh. Salutiamo tutti. Sì, sì, tutti. Dal pelato e quello che ha quasi capelli bianchi e tu. Eh già. E ciao. Siamo vecchissimi. E ciao.